Bene, volevo fare un po' di chiarezza su come accedere al GPT Chat o ChatGPT perché ci sono diversi modi di accedere e ci sono anche alcuni concorrenti molto interessanti quindi volevo farvi vedere brevemente cosa significa accedere alla chat Anzitutto il ChatGPT è di OpenAI, quindi tendenzialmente si trova sotto il sito di OpenAI però c'è una versione molto famosa adesso che è questa chat appunto OpenAI.com chat Allora, questa versione di chat funziona gratuitamente ma per alcuni che vogliono eventualmente pagare come nel mio caso, perché lo ritengono molto utile, ho fatto l'abbonamento Plus La differenza tra il Plus e l'abbonamento normale è che tendenzialmente, anche se poi alla fine siamo lì è sempre accedibile anche quando la rete è carica e secondariamente vi danno la possibilità di avere un modello, che qui chiamano Default che è quello un po' più veloce, di conseguenza che risponde molto più tranquillamente rispetto al modello Legacy che è quello che viene usato per la versione Free A parte questo, diciamo che sostanzialmente le due quindi se io qui, io ho il Plus, ma se io faccio Legacy praticamente sono il modello standard quindi se vogliamo fare una prova per vedere cosa succede quindi possiamo provare con Legacy e aprire una nuova chat, quindi la chat Vergine e quindi chi è fargli qui una domandina quindi per esempio il classico cioè di che colore era il cavallo bianco di Napoleone allora, il modello Legacy dice che il cavallo bianco di Napoleone era ovviamente bianco quindi si sente quasi preso in giro tra l'altro una volta iniziato così il modello non si può modificare e quindi abbiamo questo però se noi apriamo un'altra chat e gli mettiamo invece il modello Default e gli facciamo la stessa domanda quindi facciamo di che colore era il cavallo bianco di Napoleone allora vedremo che è un pochino più sofisticato cioè il modello Genius dà delle risposte diverse per esempio in questo caso dice che era bianco ma dà dei particolari in più quindi che si chiamava Marendo era uno dei suoi preferiti cavallo che va spesso durante le sue campagne militari questo non è detto che magari ripetendogli la domanda non risponda diversamente allora qui tra l'altro io ci ho installato anche un plugin che si chiama Super Powers quindi il plugin lo si può comunque disabilitare quindi andiamo praticamente sulle estensioni e gli togliamo il cerco chat ok e quindi l'unico abilitato è Super Powershot GPT allora quando cambio questi plugin sono delle estensioni praticamente di questi codici in questo caso sono su Edge ma sono sostanzialmente di Chrome per vedere gli effetti dobbiamo fare un refresh ok quindi questa è la versione quindi senza il plugin e qui qua possiamo fare possiamo vedere quindi come lo vedete andiamo sul modello Legacy e torniamo a fare la stessa domanda di che colore era il cavallo bianco di Napoleone ok punto interrogativo e abbiamo ecco questa cosa è già interessante che rispondono in maniera ripetitiva almeno cioè ripetibile facciamo un'altra chat e ci mettiamo di nuovo il modello default e gli facciamo la domanda di che colore era il cavallo bianco di Napoleone alla versione default questa e gli facciamo il play ok come vedete la versione plus quella che è a pagamento e in questo caso è risposta in maniera leggermente diversa e ha aggiunto alcuni particolari quindi in realtà pare che la versione appunto a pagamento cioè dia appunto delle cose in più allora solo una cosa quando avete poi queste il panorama completo di questo chat GPT vedete che avete la possibilità di rigenerare la risposta quindi vi potete chiedere di rigenerare potete anche stoppare se la risposta è troppo lunga e come vedete non abbiamo possibilità di cercare all'interno delle conversazioni cosa che io ritengo abbastanza utile possiamo pulire tutte le conversazioni accedere a abilitare la modalità diciamo bianca o questa qui la modalità diciamo bianco se preferite la modalità nera potete vedere il vostro account in questo caso io ho l'account plus che sono 20 dollari al mese in realtà sono 20 rotti euro 23 mi sembra e quindi praticamente questo e poi in questo momento ci dice quali sono le novità quindi sostanzialmente nella versione praticamente pulita quella praticamente senza il plug-in abbiamo poche possibilità tra l'altro non siamo neanche in grado di esplorare però possiamo tornare praticamente a una domanda precedente e quindi selezionarla possiamo anche cambiarle una risposta precedente vedremo adesso magari nel prossimo video vi faccio vedere alcuni plug-in utili grazie 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 a tutti